Signor Fabrizio, sono Marco! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Io sono Daniele, comunque. Tu come... Non so se riuscirai a comprenderlo pienamente. È un libro per pochi, sai? E allora lasciami il tuo numero. Così, se ho dubbi... Sei interessante come credevo. Buonasera signor Fabrizio. Ciao Daniele, è un altro libro. Eh sì, diciamo che me l'hanno consigliato. Strano. Qualche problema? Forse il mio nuovo assistente ha dimenticato di registrarlo, ma prenderò lo stesso. Grazie, sei un amico. Ci vediamo. Se io propongo... e lei dice... ok. E come è successo con Valentina. Per quello ti ho detto, la lezione l'avete, come dire, avete assistito alla lezione e l'avreste dovuta imparare. Quando la dottoressa, dal telefono, mi incarica di chiedervi con quanto chiudereste la partita, perché fondamentalmente se lei richiedeva, spettava alla dottoressa accettare o rifiutare. Ho visto balenargli nello sguardo la scintilla della paura e i suoi occhi riempirsi di lacrime mentre mi osserva legarlo. Lascio scivolare la corda in fretta tra i suoi polsi e lo schienale della sedia. Poi passo le gambe e stringo. Stringo con forza fino a fargli male. E affondo la fretta lama sulla sua pelle. Una, due, tre, cinque volte all'altezza del cuore. Il cadavere di un nuovo ragazzo è stato trovato questa mattina nel Palermitano. Si è ancora alla ricerca del colpevole dell'omicidio. La polizia sta ancora interrogando i due testimoni che ieri hanno sentito le urla della vittima, 22enne, Marco Prestigiacomo, ritrovato legato nel suo appartamento con cinque coltellate nell'addome. La polizia sospetta che questo delitto sia collegato con un altro avvenuto tre mesi fa. In tutte e due le scene del crimine è stato ritrovato sul cadavere un galofano russo. Le ricerche sono ancora in corso, ma ancora non si hanno elementi a sufficienza per creare il profilo dell'omicidio. Come on, I need something to go on. We're leaving it unsaid. This voice is ringing in my head. You're all I need. So let's make believe. Got me hanging on. I'm hanging by a thread. This company I keep is what I'm, what I've begun to tread. So come on. I'm down on my knees. Come on, I need something to go on. We're leaving it unsaid. This voice is ringing in my head. You're all I need. So let's make believe. Just give me some motivation. Take away this temptation. Are you warm taken from me now? No, now I can't seem to breathe. So come on. I'm down on my knees. Come on, I need something to go on. We're leaving it unsaid. This voice is ringing in my head. You're all I need. So let's make believe.